Assessore, dopo vele e bici torniamo in mare per un altro evento grosso internazionale, oggi presentiamo lo Scafo dei Fratelli Testa, insomma anche quest'anno abbiamo fatto una bella estate ricchissima di eventi che ha promozionato una bella immagine della città. Sì, eventi sportivi, eventi anche culturali che si svolgeranno anche qui sul lungomare, tutto finalizzato alla promozione dell'immagine della città. Ora abbiamo un trend turistico in assoluto, le previsioni sono buone, in assoluto aumento, quindi significa che stiamo andando nella giusta direzione. Napoli vive di certo, un grande momento di difficoltà, noi come amministrazione siamo impegnati quotidianamente pancia a terra sull'ordinario, quindi cercare di migliorare appunto la qualità, la vivibilità in città dei napoletani anche in un momento di grande difficoltà, ma certamente con un occhio attento a tutto quello che si deve svolgere qui, diciamo nel salotto della città.